E' stato deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Dino Pepe, il provvedimento che recepisce il contenuto dell'articolo 66 del Regolamento Comunitario numero 1308 del 2013, che autorizza il reimpianto dei vigneti solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine o indicazione geografica delle superfici estirpate. In Abruzzo, secondo gli esperti, c'è una forte richiesta di nuove autorizzazioni. A fronte dei 300 ettari che ci vengono assegnati dal Ministero ogni anno, pare all'1% della superficie vitata regionale, attualmente le richieste in corso hanno superato i 1.900 ettari. Con le nuove disposizioni, fortemente voluti dai Presidenti dei Consorzi Tutela dei Vini d'Abruzzo e Colline Terramani, afferma l'assessore Dino Pepe, si tutelano sia il patrimonio viticolo regionale, sia gli interessi dei tanti viticoltori della nostra regione.